Le giornate della memoria come queste servono per non dimenticare l'olocausto e ciò che è stato compiuto durante la seconda guerra mondiale. Al contempo è necessaria come testimonianza di una parte della storia che ci auguriamo non debba più ripresentarsi. È stato proposto dai nostri insegnanti e realizzato da noi alunni come ricercazione, lezioni interattive, riflessioni di gruppo, attività laboratoriali e produzione di mood board. Tutto ciò, attraverso il ricordo della memoria, ha dato la possibilità ai noi alunni di acquistare conoscenze e competenze che si c'erano dietro il mondo ebraico, soffermandoci sullo stile colto dell'ebraismo come Told, Paid, Stremel, Charity, Garte, Sheet o le vari tipi di costumi e tradizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.